Il nostro Stefano, straface, vediamo dove è andato. Il nostro inviato nel mondo, vai! Ragazzi di Latch News, buongiorno! Siamo a Capodormando in Sicilia. E domani si parte verso le isole eolie a scoprire questo nuovo paesaggio, questa natura incontattata. Dovevamo andare in Sardegna con il nostro catamarano, ma purtroppo, a causa maltempo, ci dirottiamo verso le vicine eolie. Mando un abbraccio a tutti. Ciao Calabresi! Ciao ciao ciao! Ciao! Buongiorno, buongiorno amici di Latch News. Finalmente è arrivato il sole, è arrivato il bel tempo. Abbiamo lasciato il porto di Capodormando e siamo in direzione Lipari. Ora abbiamo visitato Lipari con l'abbraccio. È stata un'esperienza bellissima. Oggi si parte in direzione Salina. Vamos! Abbiamo lasciato il nostro catamarano lì nel mare. Abbiamo preso le e-buy che stiamo facendo in dire dell'isola di Salina nell'arcipelago delle Ombre. È venerdì e quindi mi tocca augurarvi un buon weekend. Ciao ciao ciao!